Lui intende prima di tutto incoraggiare i fedeli, i fedeli cattolici che vivono in Bosnia e d'Herzegovina e poi suscitare fermenti di bene in quella terra e promuovere tutto quello che favorisce, diciamo, l'amicizia, la fraternità, il dialogo interreligioso fra le varie componenti del paese e la pace. Ecco, interessante notare anche, mi soffermo un po' su questo, che questi temi sono ripresi sia dal logo che dal motto di questo viaggio, no? Ecco, il logo che è una colomba che tiene nel becco un ramoscello, il ramoscello della pace, poi c'è la croce che a un certo punto ha dentro un triangolo che si rifà un po' stilizzato ai confini della Bosnia, ai colori della bandiera del paese, un richiamo anche alla comunità cattolica che è composta in maggioranza da croati e il motto, la pace sia con voi, la pace sia con voi, il saluto di Gesù risorto ai suoi apostoli. Allora il Papa va in questa che San Giovanni Paolo II ha chiamato la Gerusalemme d'Europa, in questa città che San Giovanni Paolo II ha chiamato la Gerusalemme d'Europa come pellegrino di dialogo e di pace. Sono note purtroppo a tutti le vicende di guerra e di morte della Bosnia e Herzegovina. Qual è il paese che oggi accoglierà Papa Francesco? Si è tenuto e si tiene poco in conto di quelle che sono state le conseguenze della guerra che ha interessato la Bosnia e l'Herzegovina e le conseguenze della guerra si sono fatte sentire soprattutto sulla comunità cattolica che praticamente dagli inizi degli anni 90 ad oggi si è quasi dimezzata da 800.000 persone a 400.000 persone. Ormai in alcune parrocchie non restano soltanto poche famiglie e soprattutto anziani. Ecco, sono questi i fenomeni, soprattutto il fenomeno dell'emigrazione, dell'emigrazione dei giovani legati alla disoccupazione, alla mancanza di lavoro e alla ricerca di prospettive migliori in altri ambienti. E poi c'è anche un generale calo della demografia che colpisce in maniera particolare la comunità, la comunità cattolica. C'è poi una complessità proprio anche nella struttura politica di questo paese che è frutto degli accordi di Dayton, con una complessità che si manifesta appunto nella convivenza di tre etnie costitutive, quella dei bosniaci, quella dei serbi e quella dei croati, e che a livello, diciamo, di strutture, ecco, si esprime attraverso la convivenza di queste tre realtà che sono da una parte la Federazione Bosniaca, la Repubblica Scepska e il distretto di Bishko. Il prossimo dicembre si celebreranno i vent'anni, cioè si celebreranno, si ricorderanno, saranno i vent'anni della fine della guerra, però questa guerra continua ancora a lasciare le sue tracce e le sue ferite. Comunque tutti aspettano il Papa con tanta ansia e con tanta speranza, e davvero confidano che lui potrà aiutare a fare della Bosnia e Herzegovina una casa accogliente per tutti i suoi abitanti. Qual è nel dettaglio la situazione della Chiesa? Quali sono gli orizzonti di intervento più impellenti? Sì, la Chiesa, pur tra le difficoltà, continua a svolgere la sua missione, a compiere la sua missione di annuncio del Vangelo e di carità nei confronti di tutte le persone. Ecco, io credo che possiamo riferirci fondamentalmente alle indicazioni che sono state date dal Papa stesso nel marzo scorso durante la visita ad Limina dei Vescovi della Bosnia-Herzegovina. Il Papa ha detto loro soprattutto aiutate i poveri, aiutate i deboli, mettete in atto tutto quello che è possibile per, diciamo, far sì che la gente, soprattutto i giovani, non lasciano il Paese, rimangano nel Paese, quindi che si creino le condizioni anche di occupazione, soprattutto, e di sicurezza sociale per cui incontrano un presente e soprattutto un futuro. E poi, ecco, siate presenti nella società, siate presenti nella società con la freschezza del Vangelo. E quindi, sempre qui, una maggiore attenzione ai giovani, un'attenzione al clero. Insomma, una Chiesa che sia fermento vivo nella società, anche se una società complessa e per certi versi difficile. Ancora un viaggio all'insegna della pace e della convivenza tra i popoli, mentre nel mondo purtroppo si allargano i confini dei conflitti, spesso portati avanti in nome della religione. È possibile individuare la radice del problema, oltre agli interventi più immediati? Come si può cercare di risolvere il problema per il futuro? Sì, per quanto riguarda la Bosnia-Herzegovina, io vorrei sottolineare un altro aspetto che mi pare di particolare importanza, e cioè la necessità di realizzare una sostanziale uguaglianza tra tutti i cittadini e tra tutte le fasce sociali, culturali e politiche che compongono il Paese in modo tale che tutti si sentano a pieno titolo cittadini con la loro identità specifica e indipendentemente anche dal numero. Questo credo che sia una condizione per quanto riguarda la Bosnia-Herzegovina che potrà senz'altro aiutare la pace. E naturalmente questo con l'aiuto anche con la collaborazione della comunità internazionale che è presente nel Paese a livello di organizzazioni internazionali, poi anche favorendo l'aspirazione naturale della Bosnia-Herzegovina di integrarsi nell'Unione Europea. In questo senso potrebbe diventare un esempio anche per quelle tante situazioni che oggi esistono nel mondo dove non si riesce a coniugare e ad accettare le diversità e queste diventano motivo di conflitto e di contrasto e di contrapposizione invece che di ricchezza reciproca. Quindi speriamo che questo viaggio del Papa non solo contribuisca al bene e al miglioramento della situazione in quel Paese, ma anche sia un invito a tutti gli uomini e a tutti i Paesi a ritrovare le ragioni della pace, della riconciliazione e del progresso umano, spirituale e materiale.